Mi chiamo Luigi della Luna Maggio, sono laureato in scienze politiche e attualmente frequento dottorato di ricerca alla Seconda Università di Napoli, diritto pubblico comparato e mi occupo di tutela del risparmio in Italia e in Germania. Per motivi di ricerca lo scorso anno ho frequentato il Max Planck Institute di Heidelberg per attività di ricerca e ho avuto quindi la possibilità di lavorare e fare ricerca in un ambiente internazionale nel quale convergivano interessi di ricerca piuttosto vari. Durante il dottorato, che mi sto portando neanche a compimento, ho avuto anche la possibilità di fare un praticantato all'autorità garante per la concorrenza del mercato, sei mesi qui a Roma nel 2010 e ho avuto quindi lì la possibilità di fare attività di monitoraggio legislativo, istituzionale nei settori di competenze e di interesse dell'autorità d'ufficio documentazione. Ritengo che essere una persona responsabile del lavoro e credo di averlo dimostrato nelle diverse attività, nelle esperienze di lavoro che ho avuto dalla laurea fino ad oggi e la capacità anche di sapermi gestire e creare un network di conoscenze del lavoro, un dialogo costruttivo anche con i colleghi e la capacità anche quindi di sapere imparare, non solo quella di saper esprimere diciamo le mie competenze, ma anche quella di diciamo l'umiltà comunque di imparare diciamo un nuovo lavoro e quindi ampliare diciamo i miei orizzonti e quindi approfondire le mie conoscenze e le mie competenze. Grazie a tutti!